Il mio corso di laurea magistrale viene proposto completamente in lingua inglese. Studiamo delle tematiche amministrative con modalità didattiche basate maggiormente sulla discussione di casi. In questo corso mi piace l'impronta molto pratica, quindi il taglio pratico dell'insegnamento. Non mi aspettavo incontrare tanti studenti che sono venuti dall'estero, ma anche tanti professionisti, anche i visiting professor, sia da altre società che da altri paesi anche. Grazie a tutti. L'università per me è il posto per ottenere nuove competenze, per fare amicizie e per imparare ad affrontare il mondo di lavoro.